bella raga sono viperstrikes scusate ma dovevo un po riprendermi dalla sbronza perché per aprire questo server abbiamo fatto un inaugurazione veramente assurda abbiamo spaccato tutto ci siamo spaccati a merda e veramente lasciatemi prendere un po d'aria perché sennò sto male che cazzo piove anche vabbè ma voi vi magari vi state chiedendo per chi non c'era la festa dove sei vape rino dove sei sono nella mia villa signori abbiamo aperto un server completamente dedicato alla nostra villa e cazzi nostri vedete questa è la nostra fantastica villa del griff club la villa dei peggio grifferini del mio canale e niente raga è aperta a tutti se volete visitarla è piena di trabocchetti cose nascoste easter egg cartelli bot quindi veramente vi perdete via visitarla vi divertite quindi vi consiglio di entrare perché facciano parkour minigiochi cose stupide che mi fanno sciopar da ridere è veramente se volete farci un giro l'ip è in descrizione e la versione per ora è la 1.6.4 guardate qui intanto io entro nel nel museo che tiene tipo la raccolta e la sintesi delle mie missioni di griffin in queste bacche che vedete tipo 22 oggetti rappresentativi per ogni missione molto molto veramente molto figo questo museo c'è anche la mia volta guardate questa è la vodka del viperina quando ho giocato new vegas comunque raga appunto è completamente visitabile il nostro mondo è un mondo limitato completamente visitabile e per chi riesce a completare i vari minigiochi che ci sono dentro ovviamente vincerà un premio che vi dirò dopo ma voi se volete sapere cosa c'è di preciso dentro la dentro il nostro mondo beh potete visitare la villa con le stanze a tema per ogni membro del griff club così non ci conoscete anche un po meglio magari c'è l'albero azzurro il dito doppio e non di droga c'è la wall of shame che praticamente la raccolta dei personaggi più vergognosi e non di internet magari quelli che hanno fatto un po i cazzoni vi ho detto ci sono i parkour a tema vedete tipo questo è lo farò anche in un video questo è il parkour per i lavoratori minerai filippini e abbiamo anche varie costruzioni carine da vedere tipo questo tempio con il gigante che esce dalle mura insomma un po tutto esplorabile poi c'è l'epua il nostro il nostro locale dove pogare duro che abbiamo usato per inaugurazione il museo ve l'ho già fatto vedere in sostanza cos'è e niente raga vi aspetto qui sul server beccherete me giocarci costruire perché nei prossimi video appunto mi diletterò a cercare di completare magari qualche parkour qualche missione del nostro server adesso vi lascio con Deadex che ci attacca il riassunto della serata vai Deadex ciao 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 raga arriva la pula via via scappiamo arriva mi caramba via via scappiamo